ciao a tutti amici spinner ben ritrovati sul canale oggi vi mostrerò cosa cosa bisognerebbe fare per diciamo mantenere i nostri mulinelli da spinning sempre in buone condizioni questo naturalmente è una pulizia ordinaria che ognuno di noi dovrebbe fare non dico ogni battuta di pesca ma quasi molto spesso diciamo è abbastanza semplice andiamo a svitare completamente la prisione per poter togliere la bobbina poi sfidiamo la nostra manovella a questo punto ci ritroviamo in questa condizione qui non andiamo altro che a proteggere il nostro mulinello con uno spray lubrificante in tutti i punti più a contatto con l'acqua naturalmente il mio consiglio è sempre di farlo naturalmente ogni uscita perfetto attendiamo qualche minuto dopodiché procediamo con l'asciugatura diciamo del prodotto in eccesso tutto tutto l'acqua Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi ho un piccolo pennellino. Ci aiuteremo per rospargere con del grasso apposito per i murinelli. La nostra rizione. Grazie a tutti. 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 Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.